Grazie Presidente. Allora, oggi dovrebbe essere in discussione anche una mozione dove andremo a condividere, immagino, con tutte le forze politiche una serie di... Un punto, tra l'altro, molto strategico rispetto a alcuni accenni che sono stati fatti nella discussione di queste due delibere relativamente al POMS, però in questa delibera si parla di due opere particolari. Ora, vorrei fare una premessa, ne abbiamo già discusso anche in Commissione. Ci sono praticamente tutte le città europee che hanno già una mobilità su ferro che per quanto riguarda Roma, paragonata a Roma, è una mobilità su ferro fantastica, spettacolare. Eppure queste città oggi stanno investendo miliardi sulla realizzazione delle opere su ferro di superficie, i tram. Tram che, come sapete, possono essere di varie lunghezze. Non è detto che si possa avere un tram come conosciamo noi, il tramotto, i tram stanga, quelli 70 anni fa, che per carità sono spettacolari, stanno resistendo a tutte le intemperie, anche politiche. Però i tram hanno una flessibilità sia ad uso che di fornitura che non hanno nulla a che vedere anche, ad esempio, con i sistemi di trasporto alternativi, su gomma in particolare, anche i filobus. Sia per capacità di trasporto, sia ovviamente anche per costi, perché un tram ammortizza, appunto, se dura così tanto tempo, ammortizza i suoi costi in un tempo che è molto più lungo rispetto a un bus. ha ovviamente, rispetto a tutte quelle linee di indirizzo europee che guardano a dovere ridurre notevolmente l'inquinamento, quindi, come sapete, i programmi anche di riduzione della CO2, ha probabilmente dopo la ciclabilità e la pedonalità il punteggio più alto, perché effettivamente è il mezzo più ecologico. Per alcuni è ancora più ecologico rispetto alle metro. Ripeto, Parigi sta programmando, e alcuni sono già in costruzione, venti linee ulteriori tram. Parigi, non è che stiamo parlando di una città che ha, che ne so, due o tre metro e ha bisogno di fare i tram. No, stiamo parlando di una città che ha, probabilmente, insieme a Londra, la rete infrastrutturale su ferro più potente. Eppure, stanno andando verso un incremento ulteriore della rete tram. E vi assicuro che i progetti, ad esempio, di questa capitale europea, andranno a qualificare, come stava dicendo anche prima il Presidente Stefano, anche gli ambiti storici di queste città, passeranno all'interno degli ambiti storici, con molto coraggio o no? Semplicemente perché sono infrastrutture, probabilmente le migliori infrastrutture che possono coniugare l'aspetto trasportistico con l'aspetto anche storico, anche architettonico. Io immagino che le perplessità da parte di alcuni consiglieri, che rispetto comunque le opinioni, però parliamo di opinioni che sono distanti dalle nostre, queste perplessità sono legate al fatto che un tram sui fori imperiali possa mettere in pericolo la vita dei pedoni, però, a parte il fatto che abbiamo notevoli esempi in Europa in cui i tram scorrono in mezzo ai pedoni, ma nell'esercizio di un'infrastruttura di questo tipo, di un tram, diventa anche un tema il fatto di andare in mezzo ai pedoni. Non è che stiamo dicendo che stiamo progettando un'infrastruttura che falcerà i pedoni ai fori imperiali, stiamo dicendo che stiamo realizzando un'infrastruttura tra l'altro dei binari che integrano la rete, tra l'altro nel suo luogo più importante perché è il centro della città e se nel centro della città vengono realizzate le croce, quindi le connessioni tra l'infrastruttura che è a est e quella che è a ovest, come in questo caso, probabilmente la flessibilità da parte dei progettisti delle linee, delle frequenze, è ovvio che darà la possibilità a chi poi dovrà fare questo switch di passaggio dall'automobile privata al trasporto pubblico con maggiore semplicità, con maggiore possibilità. Noi non vediamo che 500 metri di infrastruttura sui fori possano creare questo problema. Mi spiace, visto che sembra come se stiamo facendo un affronto al centro storico, questa cosa ci viene detta proprio nel giorno in cui è usciuta fuori una notizia in cui la Presidente Alfonsi sta realizzando un fast food addosso alle termine di Caracalla. Ci viene detto che questa idea non è stata neanche discussa in Commissione, è stata già risposta dal Presidente Stefano, che ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione, c'è anche una sorta di parere favorito da parte della sovrintendenza, quindi ne abbiamo già parlato, mentre invece nel caso del Presidente Alfonsi non sembra che ne abbia parlato neanche con i suoi consiglieri, perché si stanno lamentando che appunto non sapevano nulla. Quindi noi ci viene rinfacciato di un qualcosa che invece è un atteggiamento che sta dall'altra parte. Io continuo a evitare la polemica, anche perché abbiamo già detto, abbiamo già fatto, come diceva il Presidente Stefano, una presentazione importante per quello che sarà l'altra opera che è definita in questa delibera, che è il termine di Vaticano Aprile, dove abbiamo detto che quella non sarà soltanto un'opera di mobilità e immagino che anche il tram che passerà di fuori sarà la stessa cosa, avrà la stessa matrice, sarà un tram culturale, sarà un museo viaggiante. Abbiamo questa ambizione perché sono infrastrutture che passano all'interno del centro storico più importante del pianeta, quindi il tema non è soltanto trasportistico. Volevo relegare a un tema, tra l'altro negativo, addirittura di trasporto, ci sembra un'operazione che va nella direzione di continuare in questa città a non fare niente, che poi paradossalmente è quello che ci viene accusato a noi, di non aver fatto niente. Quando stiamo parlando di un filobus, ad esempio sull'Aurentino, chiudo qui l'intervento, Presidente, un filobus, dieci anni per fare un filobus, che tra l'altro deve andare a sostituire una linea metropolitana, nel prolungamento della linea B, che era stato progettato 50 anni prima. Cioè, stiamo parlando di questo in questa città. Questa città deve cambiare marcia. Tutti quelli che sono dei potenziali svantaggi vanno cambiati e ribaltati in vantaggi, perché i vantaggi ci sono, basta semplicemente saperli governare con coraggio e capacità. Grazie.